salute a tutti il mio nome è mattia prometeo e sono il profeta fatato del giardino che non c'è destinato a salvare il mondo benvenuti in questo appuntamento quotidiano della rubrica del giorno del calendario calendario filosofico ovviamente ma lasciate che vi inquadri il foglio è caduto eccolo qua il 21 di marzo abbiamo una frase di tostoi tavarisch mica cose da quattro soldi allora ma lasciate che ve la legga pure il segreto della felicità non è far sempre ciò che si vuole ma voler sempre ciò che si fa e beh si finisce poi a essere tostoi un motivo ci sarà bellissima frase bellissima ora ogni grande autore o poeta filosofo pensatore ma anche matematico e che eccetera eccetera insomma ogni persona deve dire la sua sulla felicità non si può semplicemente dire la felicità fai un po quel che ti pare fai un po quel che ti pare io ho da lavorare e vai ok no non si può bisogna definire la felicità la propria e quella degli altri ovviamente sono ironico la felicità andrebbe vissuta e andrebbe ben poco pensata però poi abbiamo frasi come questa di tostoi molto utile perché la felicità non è far sempre ciò che si vuole non è far sempre ciò che si vuole ma voler sempre ciò che si fa insomma giri di parole filosofici ma non sarebbe un calendario filosofico se non ci fossero questi giri di parole questi giri di parole servono fondamentalmente a rendersi conto di quanto umanamente si sia diventati schiavi di un ragionamento logico quanto ci si identifichi con il proprio dialogo interiore che poi al di tra le tante negatività può anche esser schiavo del pensiero logico e quindi le definizioni sono quelle le parole indicano quelle eccetera 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 così coi paraocchi come i cavalli e gli asini insomma gli schiavi ecco appunto la felicità è un fatto di cuore se già stalla stai cercando di definire stai cercando di comprendere se stai cercando di trasmetterla con le parole sei già stato sconfitto dal tuo egoismo completamente sconfitto dove che devi andare ma la passia per favore a noi profeti lasciateci essere in pace felici senza veniteci a chiedere cos'è la felicità eccetera perché accidenti però 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 la felicità ovviamente è un'emozione come un'emozione poi scaturisce in un'azione poi ci si perde mentalmente nelle azioni perché ci si confonde nel passaggio del pensiero che lega le emozioni alle azioni e alla fine che succede ci si perde appunto nel pensiero e non si sa più veramente qual è l'origine della felicità la felicità è originata dentro di noi nel nostro cuore o è figlia scaturisce dalle azioni e poi arriva il classico dottore scettico materialista che ti viene a parlare di dopamina serotonina qui e lì eccetera come se lui sapesse che le emozioni derivano dalla forma materiale delle molecole che il nostro cervello assembla le nostre sinapsi eccetera eccetera il nostro sistema nel generale e non fosse invece il contrario cioè non fossero queste molecole una conseguenza dell'emozione che esiste in forma metafisica e sì perché ormai purtroppo c'è questa moda c'è questa moda della materialismo fisico e cioè le idee sono il risultato della materia non è che la materia è il risultato delle idee e quindi insomma bisogna andare a dire appunto che non sempre si fa me la guardo perché poi nel scioglilingua mi perdo pure io non credete non è la felicità non è far sempre ciò che si vuole ma voler sempre ciò che si fa ecco a meto il suo ispira in questo senso ispira pure che si possa avere appunto un controllo controllo si possa assumere un controllo su ciò che si vuole e sono d'accordo sono d'accordo perché se il controllo su il controllo della realtà esterna è di fatto un'illusione ma il controllo della realtà interna è il risultato del cammino spirituale si ha il controllo delle proprie emozioni dei propri pensieri ma in che senso se il controllo non è che si sceglie esattamente di avere quell'emozione e avere quel pensiero si ai livelli più alti assolutamente sia a livelli elevatissimi assolutamente sì ma nel frattempo che si arriva ai livelli più alti il controllo in realtà è quello che dico sempre è l'attività la facoltà mentale identitaria cioè siamo colpiti siamo attraversati ecco da un pensiero o da un'emozione possiamo scegliere se identificarci con questo pensiero o questa emozione e allora sì possiamo ritrovarci in un agire e in quell'agire essere attraversati dalla volontà di identificarci con un'emozione positiva o negativa legata a quell'agire e se ci dimmi identifichiamo con l'emozione positiva allora sì vogliamo quel che facciamo e questo è quello che mi ispirato tolstoi in questo giorno piovoso uggioso e plumbeo del 21 marzo 2021 miei cari spettatori vi ringrazio come sempre di cuore per la visione se vi è piaciuto il video vi chiedo di mettere mi piace se non l'avete già fatto iscrivetevi al canale cliccate sulla campanella per essere notificati se volete mettervi in contatto con me gratuitamente i link sono in descrizione per il resto io come sempre alla fine dei miei video vi saluto e vi auguro il meglio è solo il meglio ciao prossimo video ciao